Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qua con la review di The Rossi Flashback, una carta veramente interessante Andremo a vedere come al solito le statistiche prima off game, le statistiche che poi ha all'interno del game in realtà Ma andiamo a vedere off game se teoricamente è ottimo, poi andremo a analizzare come al solito il suo gameplay Andremo a vedere quanto vale effettivamente questa carta e capiremo se vale la pena fare l'SBC di questo fantastico giocatore Lasciate 400 like se volete vedere altre review di altri giocatori, scrivetemi adesso nei commenti quali giocatori vorreste che facessi la review Per il resto ragazzi iscrivetevi al canale che è gratis e attivate le notifiche che è il modo migliore per supportare un qualunque content creator Come al solito ragazzi andremo a analizzare per primissima cosa i valori off game, quindi i valori, le statistiche che poi avrà The Rossi in game Prima di provarlo in modo a vedere secondo noi teoricamente quali dovrebbero essere i pro e i contro Poi ovviamente come al solito andremo ad analizzarla in game e vedremo effettivamente quanto vale questa carta The Rossi flashback ragazzi, uscita questo SBC 3-4 giorni fa E' un SBC interessante tra l'altro ragazzi scrivetemi nei commenti se siete d'accordo che anche secondo voi dovrebbero aumentare il tempo per poter fare le versioni flashback Perché 4-5 giorni non c'è neanche il tempo di provarla e già la tolgono Comunque 75 di velocità, 75 di tiro, 86 di passaggio, 82 di dribbling, 92 di difesa, 93 fisico Allora essendo che questa è una versione flashback secondo me meritava un po' più di tiro ma per il resto ci siamo 4 piedevole e 2 dimostabilità, normale alto quindi come work rate perfetto per fare il mediano 1 metro e 84 quindi anche discretamente alto A livello di velocità diciamo che 72 accelerazioni, 77 di scatto nel massimo posso andare bene Io momentaneamente gli ho messo motore poi vedremo se in game motore reggerà Motore è quello che gli da come potete vedere a sinistra velocità, passaggio e dribbling Devo andare a testare se questo va bene, se non dovesse andare bene posso mettere catalizzatore magari Perché a livello di difesa e di fisico a posto quello che gli manca è un po' magari qua e là nel passaggio Ma più che altro gli manca il dribbling Quindi velocità in questo modo arriva a 77-82 A livello di tiro ha 96 di potenza tiro, 85 tiro di stanza, 88 tiro al volo, 89 rigori Il 75 di tiro non faceva capire che avesse queste caratteristiche perché poi è scarsa nella finalizzazione e nella posizione offensiva che ci possono stare Gli avrei messo un filino in più di finalizzazione però la potenza tiro è ottima quindi può tirare i bomboni a fuori aria A livello di passaggio ha 83 di visione, 67 di cross, 83 precise punizioni, 95 di passaggio corto, 94 di passaggio lungo E 73 di effetto Diciamo che come passaggio è messo bene, non è un grande crossatore ma tanto ragazzi è un mediano quindi non lo troveremo quasi mai Cioè praticamente mai in fascia La visione è decente, forse gli avrei dato qualcosa di in più Precisione punizioni diciamo che è giusto, passaggio corto e passaggio lungo perfetti Peccato che ha così poco di effetto, forse un filino in più sarebbe stato meglio Con motore guadagna 5 di visione, 5 di cross, 10 precise punizioni, va a 99 con entrambi i passaggi corti e lungo L'effetto rimane così A livello di dribbling vediamo subito la sua prima pecca, l'agilità, 74 un po' poco 84 di equilibrio, 93 di reattività, 90 di controllo del pallone, 99 di freddezza e 74 di dribbling Allora diciamo che con quel più 5 l'agilità va a 79, anche verassa su quella agilità quindi ci può stare Come equilibrio arriva addirittura a 94 in questo modo che è fantastico Reattività va a 98, controllo palla va a 95, il dribbling arriva a 84 Quindi diciamo che con motore forse abbiamo trovato il modo di andare a parare ai problemi di Daniele De Rossi in questa versione A livello di difesa non ha pecche, ha tutto dall'85 in su, le sue più grandi caratteristiche sono il 96 di marcatura e il 93 di intercettazione Che sono ottimi, poi 97 aggressività, 94 di forza fisica, 89 elevazione, 86 resistenza Sembra veramente essere una carta fantastica E' molto buono anche perché per chi ha fatto ragazzi in Manolas flashback ora abbiamo qualcuno con cui creare un tridente O comunque con la quale fare un'ibridazione della rosa In questo modo abbiamo De Rossi con 10 di intesa e Manolas con 10 Varan lo lasciato a 7 per non stare a modificare troppo Poi c'è Donnarumma che vabbè ha poca intesa Però se volessimo proprio fare la rosa adatta a De Rossi e Manolas ci basterebbe ragazzi fare un 4-3-2-1 Uno facciamo il tridente Manolas, Florenzi nella versione UCL, Road to UCL Final, quella là E De Rossi E saremmo a posto Poi per il resto se volete mettere Donnarumma e fare un qualche altro tipo di ibrida con gli italiani Perché De Rossi è comunque italiano, si può fare pure Quindi avrei potuto togliere Varane e mettere, che ne so, chiellini Però ho voluto lasciare così tanto Varane Ragazzi parliamoci chiaro C'ha già tutto a 99 Non è che col 7 di intesa diventa scarso Per il resto direi che è un'ottima rosa Andiamo a provare in game e vediamo com'è questo Daniele De Rossi È arrivato quindi ragazzi il momento di parlare invece di come sarà De Rossi in game Quindi iniziamo a parlare dei pro, dei ni e dei contro Sicuramente come pro ragazzi uno dei suoi pro maggiori è il passaggio Perché Daniele De Rossi come passaggio è veramente eccezionale È molto molto preciso infatti le caratteristiche di passaggio che abbiamo visto prima rispecchiano la realtà Guardate questo cross banalmente quanto è preciso da una parte all'altra dal campo Un passaggio ovviamente semplici, passaggi per far girare il pallone Guardate questo passaggio specifico che era molto difficile da fare perché passava davanti a Ronaldo E è riuscito a farlo girare anche con poco effetto in maniera da non farlo intercettare Poi ci sono passaggi che magari si fanno per far girare il pallone, passaggi scodellate Però in ogni caso i passaggi filtranti, i passaggi lunghi, i passaggi corti Tutti questi generi di passaggi sono veramente, veramente precisi Ed è anche molto bravo a sfruttare le sue altre caratteristiche Poi sicuramente la sua seconda miglior caratteristica visto che è anche un mediano è la difesa Dal punto di vista del contrasto di piedi, della scivolata ma anche della marcatura In generale le intercettazioni è molto molto bravo È un giocatore che non molla mai, è un giocatore che cerca di andare su ogni pallone che gli passa di fianco Vedremo poi però che una pecca lo limita un pochino in questa fase Ma in ogni caso se sapete usarlo bene, se imparate a utilizzarlo Vedete che è veramente preciso, riesce sempre a intercettare bene il pallone Poi però comunque si ha bisogno un pochino di aiuto Ma è lì a di massimo comunque a livello difensivo è veramente forte Poi la sua seconda caratteristica, terza caratteristica che secondo me è anche forse la migliore È la forza fisica È veramente difficile da spostare, avete visto questa corsa in dritto per dritto Praticamente senza mai fermarsi La forza fisica gli permette di sfruttare meglio sia il lato difensivo ma anche il lato offensivo Essendo che è un po' carente in altre due caratteristiche che vedremo dopo E questo gli permette di vincere con tre serie come questo con Ibrahimovic E con giocatori veramente forti fisicamente In questo modo diventa veramente difficile da gestire a livello di forza fisica Un suoni è sicuramente il tiro perché come possiamo vedere in questi due clip Ha una incredibile forza di tiro, un'incredibile potenza di tiro come abbiamo visto a questo gol Ma è veramente scarso a livello di finalizzazione Questo non gli permette comunque di fare chissà quanti gol Non è quel centrocampista che vi farò 10 gol in 25 partite È un centrocampista che se gli capita l'occasione con quel 96 se non erro di potenza di tiro Se c'entra bene il pallone, se c'entra bene la porta, se la mette sotto il 7 è imparabile Perché tira veramente forte Ora invece parliamo dei no ragazzi Sicuramente i no sono due e secondo me sono molto, molto importanti Perché purtroppo la velocità e l'agilità sono le sue due più grandi pecche Come possiamo vedere da queste due o tre clip Vedete che De Rossi è molto lento a girarsi È molto lento in termini di velocità Quando si tratta di fare il passettino veloce De Rossi questa cosa gli manca Purtroppo vedete si allunga il pallone e fa fatica a recuperarlo È molto complicato gestirsi questa parte qui E secondo me questa è una pecca non indifferente Perché si sente sia a livello difensivo quando recupera un pallone Magari c'è l'avversario che preme subito per recuperarlo Sia a livello offensivo quando stai uscendo da un dribbling o da un'accelerata E quindi va usato in maniera molto intelligente Comunque è arrivato il momento ragazzi Il solito momento di definire Se De Rossi è Fucciapios Ready Se è Competitive Ready Se vale la pena farlo Se vale i crediti che costa Allora innanzitutto direi che come dicevamo fino a pochi secondi fa La sua più grande pecca è sicuramente l'agilità e la velocità Che lo rendono secondo me non Competitive Ready Perché comunque si è molto forte a livello difensivo Ha un ottimo tiro È bravo nel passaggio È anche forte di testa anche se non l'ho citato prima A livello di caratteristiche ha messo bene Pure è alto, ha un buon piede La sua pecca però è la velocità e l'agilità Che sono troppo importanti a livello competitivo Perché parliamo di Vieira Parliamo di Kanté Parliamo di giocatori Che sono sia forti difensivamente Che veloci E se si sconta comunque con Ronaldo Con Neymar Diventerà veramente difficile Comunque recuperare il pallone E mantenerlo Perché lo recupera Però poi è difficile mantenerlo Perché essendo poco agile Poco veloce Diventa difficile gestire quella parte lì Anche a livello offensivo Se vi troverete magari a costruire una manovra Con De Rossi Si sentirà la differenza Da un Vieira Un Kanté Un Ballak Un Gullit E tutti quegli altri giocatori Perché Sì se siete bravi a gestirla con il fisico Riuscite comunque a gestirla bene Ma Se uscite da un dribbling Uscite da un accelerata Se è l'avversario più veloce La maggior parte volta arriva prima Quindi Queste pecche sono molto importanti A livello di Food Champions Secondo me è utilizzabile Perché è comunque un'ottima carta Non è una carta da buttare via Non è competitive ready Ma ormai il Food Champions Essendo che non è più importante quanto prima Non è più giocato da tutti i pro Eccetera eccetera Sicuramente si riesce a utilizzare ancora questa carta Anche in Food Champions Se in particolare Se siete romanisti Ancora non si comanda Vi auguro di farla Perché comunque si ha È una carta Che è molto interessante a utilizzare Molto divertente Se in particolare siete fan di De Rossi O siete i suoi tifosi Quindi l'IA di Massiva Vi consiglio di farla se siete tifosi È una buona carta Ma con 250.000 crediti Credo ci sia di meglio Se si va in Premier Basta pensare a Kanté Se si va soprattutto Non scambiabile Quindi vi consiglio di farla Solo se siete tifosi Se proprio ci tenete a fare questo genere di carta Ma pur dicendo che comunque è una buona carta Vi assicuro che con quei crediti potete trovare di molto di meglio Per quanto mi dispiace a dirlo La velocità e l'agilità si sentono troppo E diventa difficile usarli in alcune manovre Dopo la seconda partita ho utilizzato Il primo se fosse uno sbaglio motore Ho messo catalizzatore Perché si sentiva troppo Il problema della velocità e l'agilità Non si sentiva questo grande miglioramento Vi consiglio di mettere catalizzatore Gli migliorano i passaggi Oppure mettete il cacciatore Mettete quello che vi pare Ma aumentategli la velocità Mettete una di quelle tre carte Che dà velocità più un'altra cosa Io ho messo catalizzatore E mi sono trovato meglio Quindi vi consiglio di farla Se vi piace De Rossi Se siete su Farsi Se siete sui tifosi Se ci tenete Se avete crediti da buttare Ma se avete solo Per dire 300k Per un mediano Investiteli diversamente Se volete un consiglio personale Perché velocità e agilità Si sentono troppo Per il resto ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video Lasciate tanti like Iscrivetevi al canale Attivate le notifiche Ci vediamo ragazzi Nel prossimo video Bella a tutti